Bene, sono le 9.34 del mattino, in questo momento sono a San Pietro al Natisone, tra pochi chilometri c'è il confine con la Slovenia. Insomma, sembra un posto tranquillo, devo andare piano perché sto guidando, quindi con calma. E qui accanto c'è il fiume Natisone, che dal nome a questa valle che si chiama appunto Valle del Natisone. È stato lungo questa valle che nel 1917 i soldati in rotta da Caporetto sono scappati giù verso la pianura padana. Ecco, in questo momento il cartello che indica la fine di San Pietro al Natisone. Ciao ciao! Bene, andiamo avanti. Prossima fermata a Pulfero.